Dai, colpiscilo! Non ci riesco! Fallo e basta! Prendi... Ok, siamo tutti stanchi, ce ne siamo date per bene. È ora di parlare. Dai, dai, please feel high. Chom, 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 tu sentirai. Quando i beaver sono in campo, per nessuno c'è più scampo. Sì? Il tuo film preferito? Dico se mi lasci e ti cancello My Pitch Perfect 2. Programma TV? Sabrina? Snack preferito? Caramelle e i tre frutti di bosco? Chi ti piace più di tutti? Super Booker? Il nostro saluto, stronzi. Va bene? Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Aspetta un attimo. Com'è possibile? Indovinatemi, cerca un amico al momento. Invece voi mi avete fatto il culo a strisce. Anni alla coltellata. Anni alla coltellata.